Il problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti è ancora sotto i riflettori. Stavolta però ai problemi si cerca di dare delle soluzioni. I temi affrontati al convegno di Sicilia Ambiente avvertono sulle prospettive future nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti. Si chiama 1 ad 1 il nuovo metodo di selezione raccolta dei rifiuti differenziati. Ideato da Giuseppe Cannavo è ancora oggetto di sperimentazione per che alcuni comuni siciliani l'abbiano già adottato con ottimi risultati. Consiste nell'applicare un adesivo al sacchetto contenente dei rifiuti che certifica l'avvenuta differenziazione che viene dunque registrata in un profilo utente che a sua volta ottiene degli incentivi. Evidentemente noi siamo in grado di certificare i conferimenti per singolo conferimento ma anche al grammo, mi spiego meglio. Ogni sacchetto ha una sua etichettina e quindi poi l'impianto identifica il nome dell'utente e la quantità del peso. Quindi significa sostanzialmente che ogni sacchetto è identificato per peso e per utente. E' come se nel sacchetto della spazzatura ci sia in qualche modo appiccicata la carta identità. Soluzioni che si fanno strada in quello che è diventato un problema che grava sulla nostra città oltre che sulle nostre economie. Basti pensare agli elevati costi per lo smaltimento dei rifiuti, per la bonifica delle discariche abusive o alla questione dell'ormai satura discarica di Bello Lampo. Quando il peso di tutto il servizio afferente al rifiuto da raccogliere e smaltire deve essere caricato e sarà caricato sui cittadini, questo peso per i cittadini diventa insopportabile, specialmente in una situazione di difficoltà economiche di quelle che viviamo. Quindi c'è un problema economico che riguarda i cittadini a cui va tutto il peso dei costi ma c'è anche un problema di difficoltà poi a smaltire perché ovunque la separazione di ciò che si può differenziare e ciò che invece non è differenziabile è così complessa, è difficile che non riescono ad andare oltre certe soglie. Quindi il problema della differenziata va sostenuto e incentivato.